Mattia sono tre step il rituale dell'accensione, ok? Primo step, schiacciamo il freno, sempre tutto con la destra, lascia perdere la sinistra, non lo usi più oggi, in questa macchina qua non lo usi più oggi, non ti preoccupare, è semplicissimo, lo vedrai, ok, allora secondo step, la chiave fino in fondo e rimane ferma, quindi fino in fondo, rimane così, basta, mollo, e il terzo step è l'engine start, vai, vediamo! Com'è? Bellissimo! C'era la mamma qui che chiediamo un bicchiere d'acqua a te, prima che c'è passato! No, no, io vado benissimo! Non si preoccupi, fa tutto bene, non si preoccupi, andremo in sicurezza, bene, devo tornare anch'io, c'è qualcuno che mi aspetta qui! Mamma mia! Ok, allora, tranquilla Mattia, allora, facciamo tutto a sinistra e poi andiamo a destra, ok? Quindi adesso in questo momento qua siamo a neutro, vedi? Siamo a neutro, te schiacci il freno ancora una volta, per favore! Cioè, io mollo e schiaccio! Poi schiacciare, puoi schiacciare, ok? Mollo e schiaccio! Fai up! Cioè, no, scusa! Col freno premuto! Ok! Fai up! Andiamo sulla prima! La macchina è in prima! E ti aspetta! Puoi mollare il freno perché la macchina non va! La macchina rimane ferma! Puoi mollare il freno tranquillamente! Ok, non è come negli altri! Non è come negli altri! Stacchiamo un Ferrari! Hai ragione! Me l'ero dimenticato! Vado? Vai! Piano piano! Ecco, perfetto! Il visuale è un po' bruttina qua con una macchina, non ce la faremo, dai! Non ce la faremo! Non c'è fretta, vero? No, no, no! Non c'è fretta, vero? Più stiamo qui, meglio è, no? Sì! Ok, allora d'accordo! Mamma che bello! E se andiamo? A destra ce la usciamo? Sì! Ecco, bravo! Aperta così evitiamo i macchina piedi! Perfetto! E cambia lei! Cambia lei! Vedi! Prendiamo sempre dritto! Qui però freno, nel senso... Sì sì sì! Cioè non è... tutto automatico! Tutto automatico! Comunque ci sei te! Aperto la curva, sì, bravo! Ecco lì che volevo dire! Ecco! Se ti guarda lo specchietto vedi che... Si avvicina molto di più di quanto pensi poi là dietro! Davvero? Eh? Cioè non sembra però alla fine... Ok, perfetto! Mamma mia! Che bello! Che emozione! Cioè... Come conti? Siamo in seconda! Mamma mia! È un Ferrari anche in seconda! Sì! È un Ferrari anche in seconda! Non lo so! Non so se si sente! Mamma mia! Mamma mia! Uff! Vedi dai, alla fine... No no, beh! Beh, è tutta un'altra roba, eh! Andiamo dritto! Eh, eccoci! Ti chiedo sempre le mania! Sì, infatti stavo per dirti che... Sì! Mentre con la mia... Sì, è normale che... Sono tranquillo! Questo pia più! Io alzo un po' il mio, vuoi che alzo anche il tuo un attimino? Sì 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 sì! Lascia un po' aperto così abbiamo ancora un po' di rumore! Però un po' di meno di dentro! Uff! Perché poi schiacci... Eh... Sì sì! Cioè... Se tu schiacci vai! Sì! Ecco perché bisogna stare attento! Però è divertente come mai! Mamma mia! E... Andiamo sempre dritto! Guarda! Guarda! Io vorrei che ti facessi... Cercassi di prendere la corsia di sinistra! Ce lo fai? Vai piano ancora! Vai piano ancora! Prendi la sinistra! Vai ancora sinistra! Lascialo andare! Scala terza! Scala lunga? Sì! Terza! Scala terza sinistra! Guarda! Terza! Vai! Ma... Mamma mia! Uhuh! Madonna! Mamma! Mamma! Badun! Sì! Sì! Santo cielo! Ahahah! Cioè non la voglio! Ahahah! Ahahah! Cioè la voglio e vengo qua e faccio solo questo pezzo qui! Ahahah! Mamma mia! Badun! Ahahah! Lo rifacciamo dallo spazio che ho davanti, prendono un po', siamo a sesta, facciamo quinta, facciamo quarta, terza, e andiamo. Mamma mia, mamma mia. Cioè, è fantastica, è la macchina, la Ferrari. Mamma mia. Che spettacolo. Pusciamo a Pizzago. Quindi ce la fai, fai la metteria, ci fai freccia, puxiamo di qua. Tranquillo, tranquillo. Mamma mia. Frena, frena. Ecco, perfetto. Bravissimo. Bravissimo. Ok, adesso facciamo tutto a destra, perché faremo il cavalcavia e torneremo all'autostrada. Ok. Tutto a destra. Non è un brutto lavoro il mio, dai. No, no. Avete bisogno. Cioè, me la dai in mano qualche giorno, prendo la mano anch'io, poi sono anch'io istruisco. Va bene, ok, allora ci considero. Mi lascio il curriculum. Va bene. Facciamo qui a destra. Mamma, senti il motore. Sì. Spettacolo. E penso che anche se tu ce l'abbia sotto tutti i giorni, non ti ci abitui mai. Sì, ecco, una bella edoca. Vuoi perché guido io? No, 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 no. Dove vado dritto? Senti dritto. Mi piace proprio. Madò. Ti si fanno entrare, no? Adesso, adesso. Allora, do lo spazio. Allo spazio. Sì, il trucchetto è quello. Vai. Mamma mia. Sotto il turco, l'hai sentito? Che spettacolo. Poi il vero di avere la macchina in strada è che la vedi insieme alle altre. E vedi la differenza. Ma si può ancora una volta? Sì, sì. Appena usciamo dalla curva, facciamo una volta ancora. Che roba. E non puoi schiacciare a fondo. Cioè, tipo appena appena così. Ma usciamo qui a Vareno, Mattia. E c'è anche il freno. Eh, ho visto. Però è dolce. Non è secco. Sì, sì. Ma poi alla fine è una leggenda urbana che la macchina sia troppo dura. È una stronzata. Cioè, no, è di cui non la guida mai. Cioè, la vedi. Mamma mia. Non ci devo dire niente. Cioè, la vedi te stesso. No, sono già tornati. No, abbiamo ancora un pezzo. Però è urbano. Deve se te la guardi da signori. Di là, vedi. Esatto, premiamo tutto a sinistra. Sì, esatto. Tanto tranquillo. Aspettiamo il momento giusto. Non c'è fretta. No, no. Te mi hai chiesto prima, vero, quanto tempo c'era con la macchina o sì? Sì. Abbiamo dato un sms. Sì, sì, te l'abbiamo mandato noi perché ci chiedevamo appunto. Sì, sì, non è problema. Cioè, appunto, abbiamo fatto questa finestra di mezz'ora. Così siamo tranquilli. Arriviamo lì, facciamo delle fotografie, parliamo, facciamo delle motori. Cioè, vai. Ogni cliente deve essere speciale. Mamma mia, cioè, io quando sono in macchina e vedo un Ferrari e la sento, tipo, è wow. E adesso l'idea di essere io, fare questo wow, questo aspetto wow agli altri, è fantastico. Mamma mia. Ma questo è il motivo per cui abbiamo scelto di fare il test drive in autostrada. perché lì non è la velocità finale quel che conta, è il fatto che te hai in mano un simbolo che tante volte per la gente... È un tabù. Capito? Quindi, secondo me, c'è anche il suo perché. Cioè, c'è la sua bellezza di essere in autostrada con una macchina di accede. Mamma mia, sì. Sì, secondo me, cioè, quello che mi hai fatto fare prima è... Boh, è impagabile. Mamma mia. Dai, sono contento. Che spettacolo. Sì, si sente, però non è così... così dura. Sì, cioè... Cioè, è una durevolezza giusta. Sì, esatto. Non ti fa star male. Esatto. Cioè, ti fai... Senti la strada. Esatto. Bravissima. Mamma mia. Farò le... Chissà quante facce ho fatto, ma... Beh, così venivano anche i tuoi video. Esatto. Senti ogni buca, ogni striscia che c'è storta, la senti. Senti. Siamo arrivati, ma siamo qui. Qua? Sì. Ti ricordi? Ecco, di là. Mamma contenta. Fidanzata, anche lei contenta. Mi metto di qua, perché mi dice la buca. Sì, va bene, va bene. Intanto c'è i prossimi. Va bene? Ok. Vai, ci penso io a manograverlo. Bisogna girare la chiave, bisogna fare silenzio. Grazie, devo chiuderla, per forza. Grazie. Di cosa? Mi toccarei dartela. Bellissimo. Va bene. Mamma mia. Amore, aspetta, 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 Mattia, non uscire ancora, che lei ti fa un paio di foto, e così aggiungo il tuo video che vengono carini. Ah, ok. Bene. Mamma mia! Non ti è piaciuto? No, per nulla. Ma come è bello rosso? Mamma, cioè. No? Ma potete guardarle per un bel secondo. Come è stato? Bellissimo. Sì. Aspetta che è venuta sfumata. Così siamo qui fino a domani, devi stare con gli occhi aperti. Aspetta un attimo. Amore, la foto in cui tieni il volante. Eh, dai, questa ci vuole. Ecco, con bel sorriso. Devi guardare lei. Una Ferrari. Non piange perché devi fare. Adesso non scende più. Ecco, bello. Mamma mia. Vabbè. Non devo scendere. Eh, mi dispiace. Però non c'è modo di uscire. Non si può uscire. Dobbiamo stare qui dentro. Dobbiamo stare qui dentro. No. Perché è bloccato. Grazie. Grazie a te. Io penso che più avanti ci rivedremo ancora, magari. Sì, è quella dell'anno prossimo. Più che volentieri. Più che volentieri. Benissimo. Cioè, qui è troppo tutto benissimo. Sì, sì. Cioè, qui è troppo tutto benissimo. Cioè, qui è troppo tutto benissimo. Mamma mia. Cioè, io quando sono in macchina e vedo un Ferrari e la sento, tipo, è wow. E adesso l'idea di essere io, fare questo wow, questo aspetto wow agli altri, è fantastico. Mamma mia.